Diciamo che io non mi trovo in difficoltà per questo, anche perché considero il mio governo un governo a sette stelle, quindi diciamo che trovarsi con un po' di cinque stelle in qualche modo diventa anche simpatico. Ma per me non sono stati sempre politici, cioè io non ho difficoltà a discutere personalmente con i grillini, per quello che mi riguarda, li reputo naturali persino alleati per quella che è la mia impostazione politica, capendo che anche le forze a me alleate magari hanno riserve notevoli, però io sono il Presidente della Regione, sono il Presidente dei Siciliani, debbo governare con tutte le forze politiche, però io devo dire con estrema sincerità che io ho aperto subito ai grillini personalmente, ho aperto laddove si voleva fare un accordo parlamentare, per esempio sulle cariche istituzionali della Regione che escudeva i grillini, che era un accordo allora che si faceva fra le forze che sostenevano il governo e il PDL, che escudeva le altre formazioni, e io ho detto no. Il governo ha fatto tutto quello che poteva fare, ogni atto per arrivare alla regola del Muos, però se io sono un semplice cittadino dico, devo revocare, basta. Se invece sono un amministratore, devo pormi il problema di come revocare, che è un po' abbastanza diverso, no? Una discussione aperta col gruppo parlamentare, che sicuramente rispetto a queste cose riesce a comprendere un po' meglio questi problemi, e rispetto a chi invece magari nel movimento sposa la tesi, che noi avremmo chissà cosa possiamo fare rispetto a quello che abbiamo. Canceglieri, io ho un buon rapporto, devo dire, abbiamo avuto un problema in campagna elettorale rispetto a una questione, però non ce l'avevo chiarito, però anche lui era stato pesantuccio con me, aveva detto che mi avrebbe, a chi non l'avrebbe stretta la mano, detto che non l'avrebbe stretta anche con me, per via dei miei alleati, che questo non significa assolutamente nulla, perché ce la stringiamo sempre, voglio dire, ce la stringiamo sempre, però sinceramente io non pensavo allora di meritare questo, ma questi siciliani mi sembra che nel concreto della loro esperienza possono essere un esempio positivo per il Movimento 5 Stelle a livello nazionale.